Salve a tutti, oggi iniziamo con un altro test di Davide Lucchiazio, allora, numero due, due però, iniziamo con il secondo, due, allora, la corrente che c'è? Cosa è? Un cavo di 5 metri, un mouse, ecco voi, un pezzo forte, lo vuoi immaginare? Cosa stavo scherzando? Questo è un po' il mancino, che si trova nello spascio, non potete trovare dove volete, dove volete, non mi spascio ci sono, e dovete riempire, di qua, pieno di gas, di dentro, dovete chiudere tutti i fori, belle chiose sette, a posto, Questa, dovrà, 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 dov, deve essere, messo sotto terra vi farò vedere il punto dove va seguitemi questo sarà il punto ora passiamo il filo mi raccomando 5 meggi a posto tutto pronto filo bello testemato ho tagliato la parte perché se no su questo pezzo di film se no dovete vedere a me che scavavo che sudavo tutto sporco mi raccomando dovete avere un giubbotto antifoglietto in caso delle pietre ho messo un filo che esce per collegare il mouse adesso a posto vi spiego che succedeva collegando il mouse ammaccando il bottone ci manderà una specie di di corrente tipo tipo che fosse accendino e fa scoppiare qualcosa potente cominciamo sarà spettacolare io non lo so ho capito però come si fa però so che succederà questo è un topo si chiama in inglese si chiama topo adesso colleghiamo l'esperimento è riuscito mi dispiace per il gatto mi dispiace per il gatto mi ha sempre in mezzo il gatto e tutto se me le spunta questo gatto è volato mill'aria le saluto grazie No, 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 no.